Il cancro è un sistema complesso che può essere più efficacemente compreso integrando dati sperimentali e teoria biologica con metodi matematici rigorosi. Nel gruppo di fisica matematica del Politecnico di Torino tale tema è affrontato su diversi fronti di ricerca. Uno di questi si focalizza sugli aspetti evolutivi relativi alla tumorigenesi. La nascita e lo sviluppo di un tumore è un fenomeno soggetto a diverse pressioni selettive che ne guidano l'evoluzione in un determinato microambiente. Ad esempio le azioni terapeutiche possono portare adattamenti chiave per il successo o il fallimento di un trattamento. La modellistica matematica permette di costruire un laboratorio in silico in cui poter ottenere una migliore comprensione delle dinamiche evolutive sottostanti. Il mio nome è Marcello Dell'Itala e sono un fisico matematico. La costruzione di laboratori virtuali può aiutare la ricerca medica e biologica nella progettazione di interventi ottimali per controllare e rallentare l'evoluzione del tumore.